Nonostante l'avvento dell'ebook, l'aggressività commerciale di Amazon e Apple e la conseguente, per così dire, smaterializzazione del libro, la vendita dei libri sembra tenere testa alla tecnologia digitale. Nel tentativo che l'opportunità offerta dalla tecnologia non si trasformi in un disastro per editori e librai, gli esperti concordano sul fatto che il libro di carta e ebook possano continuare a coesistere in equilibrio. MistiV si è recata in una delle librerie di Cagliari per conoscere il trend delle vendite oggi. Mariangela, quali sono le letture che vanno per la maggiore in questo periodo? Sicuramente 50 sfumature, grigio, nero e rosso, ha avuto una pubblicità molto molto forte e ovviamente ha influenzato anche una libreria indipendente come la nostra, anche se ovviamente è un tipo di vendita che si può fare ovunque, in un megastore così come da noi. E poi sicuramente si continuano a vendere grandi autori che hanno ormai conquistato la fiducia dei lettori, da Camilleri a Follett a Paolo Giordano che aveva esordito con la solitudine dei numeri primi. Ecco, questi sono altri grandi titoli che non tradiscono. Ecco, l'età media di chi viene ad acquistare un libro qual è? Sono giovani o sono meno giovani? Ma diciamo che è abbastanza varia perché lavoriamo molto anche con i ragazzi, con la letteratura, col fantasy tantissimo, con la saga di Martin, le cronache del ghiaccio del fuoco e poi anche adulti sicuramente. Il target maggiore è sui 40-50 anni, ovviamente sono anche le persone che hanno una stabilità economica maggiore e che quindi si possono permettere più letture, ovviamente. In questi giorni è in corso di presentazione il film di Salvatore Mereu, Bellas Mariposas, tratto appunto dall'omonimo libro di Sergio Azzeni. In questo periodo avete avuto una maggiore vendita del libro di Azzeni? Sì, sì, sicuramente c'è stata un'impernata, il film ha fatto parlare tantissimo, il racconto va sempre comunque, però in questo periodo molto di più, chiaramente, sì, sì. Mentre per quanto riguarda il genere che più esce dalla libreria qual è? Che so, il noir? Ma non solo, anche i romanzi comunque un po' più, diciamo, sentimentali, quelli che toccano un po' di più la sensibilità delle persone. La pubblicità mediatica è quella che funziona di più, che ha più potere, sicuramente, e poi tanto anche il passaparola tra lettori. Mariangela, c'è un titolo che ti sentiresti di consigliare agli amici di Miss TV per magari avere lo spunto per un pensiero natalizio? È sicuramente un classico, perché quelli non muoviono mai e meritano tantissima attenzione, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, e poi, invece, tra le novità, l'ultimo di Pennac, che è originalissimo, Storia di un corpo, della Feltrinelli. Sicuramente un occhio anche alla letteratura sarda, perché merita tantissimo, ci sono tantissimi scrittori sardi in gamba, e a me personalmente piace molto Mariangela Sedda, alcuni dei suoi romanzi, Nel vuoto orioso del mondo e Vincendo l'ombra. Grazie a tutti.